La Regione Toscana elimina le agevolazioni sul bollo auto per il noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente. La proposta di legge approvata dal Consiglio regionale mette in evidenza ancora una volta la spaccatura tra la maggioranza e Italia Viva, che è tornata a votare con le opposizioni. Non c'è nessun aumento per i cittadini, dicono della maggioranza. Il cambiamento riguarda soltanto il noleggio. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento, ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo ma direttamente dall'utilizzatore. Dura la replica che arriva dal centro-destra e dal Movimento 5 Stelle, chiaramente schieratisi contro questa decisione. La Regione Toscana, grazie a questa modifica normativa, andrà ad incassare nel 2023 9 milioni di euro in più rispetto al passato, che destinerà al comparto della sanità. Allora noi ci chiediamo cos'è successo nel 2022. Perché? Cos'è successo alla sanità toscana nel 2022? E perché questa domanda? Perché la legge che permetteva alla Regione Toscana di incassare questi 9 milioni di extra-gedito è la legge di stabilità del governo del 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020. Cioè la Regione Toscana ha scientemente scelto di non incassare questi 9 milioni di euro nel 2020, nel 2021 e nel 2022, andando ad incassare nel 2023. che risponde all'intervenzione...